Sono nato con un'ernia diaframatica, si chiama credo in italiano. Questo quando sono nato subito, dovevo operare subito io, che era 50-50 hanno detto. E dopo, con 14 anni, avevo un blocco indistinale, che ho operato due volte in dieci giorni, che era dura, però si va avanti come sempre, sono così, deve sempre andare avanti, quando c'è qualcosa, un bambino così, con grande passione. Il mister è bravo, un bravo allenatore, posso dire, perché avevo già tanti allenatori io, posso dire che è uno di quelli top, lo fa bene, in relazione con lui credo che possano tutti, sincero, parla con me sincero, io parlo con lui sincero, e sicuro che lui può una volta fare un step di più, perché ha questa qualità.